Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi volevo parlare della seconda puntata di Aspasso nel Bosco. Infatti potete vedere delle varie impronte di animale, ma anche un cardellino, ovvero un piccolo uccello rosso, nero e giallo e una tortora. Il cardellino l'ho trovato nei primi giorni di primavera, anche se esso si presenta sempre in estate, quindi non so come ho fatto a trovarlo. Io con questo vi saluto. Ciao ragazzi!